ciao toro benvenuto in questo nuovo video in questo nuovo oroscopo per il tuo segno zodiacale il mese di luglio 2022 andiamo a vedere oggi lo faremo grazie all'astrologia vedremo un pochino tutti i transiti del mese dopo di che andrò anche ad interrogare le mie carte i miei tarocchi per scendere più nei particolari nei dettagli e via andare va bene toro una cosa ti voglio ricordare che ho già pubblicato l'oroscopo per l'intera estate 2022 per il tuo segno zodiacale quindi ti invito ad andartelo a vedere perché parlo anche del mese di luglio ovviamente ti lascio dovrebbe comparire ora qui sopra il link oppure in fondo a questo video alla fine di questo video ti ho messo il link puoi cliccare andarci direttamente altrimenti giù nella descrizione di questo video va bene bando alle ciance e andiamo ai succo qual è il succo c'è un transito molto importante molto bello lì che sicuramente si farà sentire ed è l'entrata di marte nel tuo segno zodiacale cioè in quello del in quello del toro verso il 6 7 luglio poi ci vorrà un po di tempo per iniziare a sentirlo ma non è detto ci sarà anche chi di voi avvertirà subito la presenza di questo pianeta va bene altri passaggi molto belli sono i passaggi del sole di mercurio poi dal 5 6 di luglio e venere più tardi dal 20 luglio nel segno del cancro segno che come tu sai son tu lo sai te lo dico io è un segno a te molto favorevole per te molto molto positivo ecco quindi tutto questo ambaradan di movimenti nel mese di luglio che ovviamente oltre a tutto il resto comunque cosa mi dice senz'altro contatti 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 persone intorno a te spostamenti viaggi quindi sicuramente tu va da qualche parte o tu vai con quindi insieme a qualcuno o vai da qualcuno poi magari qualcuno viene da te ma io si vedo anche se muoverti ci sono degli spostamenti guarda nel mese di luglio a dittela tutta non odiarmi ti vedo bello testone quindi come se tu dovessi prendere una posizione o una presa di posizione su qualcosa quindi su un principio su una situazione che tu hai in ballo e via andare ma potrebbe anche semplicemente che tu lo sarai in tutti gli ambiti che tu pigli la sua posizione mi spiego meglio un momento in cui tu sarà molto puntiglioso vuoi mettere i puntini sulle magari tu parli con qualcuno sul lavoro a casa a scuola capito che ti dicano qualcosa se invece tu devi dire no è così boom 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 cioè bello bello sosto bello testardo va bene ci sono anche dei soldi spostamenti di denaro io non so se t'arrivano da qualcuno se sono già tuoi fatto sta che tu gli sposti tu gli muovi quindi non lo so il che tu fai ecco rapporti molto positivi vedo anche qui ci sono degli amici molto cari ma anche fratelli o sorelle quindi dei momenti carini insomma capito delle dolcezze delle insomma delle dolcezze dei momenti teneri insomma carini con questo fratello sorella amici quel che l'è ecco fai un po d'attenzione dopo il 20 di luglio quando mercurio passerà nel segno del leone il leone contrariamente al cancro un segno che ti sconfì in ferrapo capito anche perché siete due testardi messi insieme quindi due teste che picchiano ci si scorna ecco ora le ornatura fei il leone non ce l'ha però insomma capito ora battute a parte ecco lì ci possono essere un po dei nervosismi delle parole un pochino così questo voler prevaricare l'altro magari capito insomma c'è un po questo scontro se tu hai un qualcosa a una situazione che può riguardare una casa casa proprio come immobile anche lì ci possono essere insomma dei pensieri delle cose ecco delle comunicazioni un po particolari ok ma io direi di guardare un po anche le carte che ci dicono e mettiamo tutto insieme allora partiamo da questi oracoli oracoli volume 2 è un masso di carte che ho fatto io se vuoi avere queste carte trovi tutte le informazioni giù nella descrizione del video va bene luglio 2022 per il toro ora luglio 2022 ok il passato è ancora presente nei ricordi quindi qui c'è una nostalgia una malinconia magari tu ti metti a riguardare delle foto c'è qualcosa che devi sistemare qualcosa di insolito allora è nel taglio mi è volato qualcuno è pentito e vuol chiedere scusa allora qui semplicemente ci può essere qualcuno che torna e si rifà vivo o comunque che ti riapproccia vada bene non è detto si tratti solo d'amore cioè nel senso di coppia capito che ti voglio dire può essere un'amica un amico con cui non vi eravate più sentiti con cui era successo in qualche cosa o qualcuno che ti doveva fare dei lavori che però non c'ha avuto il tempo se li fa vivora per farteli e via andare va bene guardiamo un po' la cerchia diciamo ok qui non è che mi parlano in specifico di amore ecco quello che c'è ci sono delle comunicazioni qui ci sono delle comunicazioni dei lavori che sicuramente tu avrai da fare un qualche dovere che tu devi portare a termine ecco se tu sono studente sono gli esami ovvio se tu sei un lavoratore di tu lavoro se tu sei una casalinga sono lavori in casa magari devi veramente ristrutturare qualcosa capito che ti voglio dire esprimi un desiderio guarigione del padre quindi qui potrebbe essere proprio sto padre che cerca vedi come ti posso dire di sistemare magari talificato che tu va voglio dire ecco o che ti dice qualcosa un tentativo di guarire o ancora tu potresti chiedere qualcosa il tuo babbo anche un permesso per esempio se non è il tuo babbo è il tuo marito o comunque il capo diciamo ok al lavoro potresti esprimere un desiderio cioè fare una richiesta ad un qualche tipo che potrebbe pure esserti accordata eh non so perché le carte poi vanno lette va bene ma vediamo un po' i tarocchi cosa ci dicono vediamo ha capito toro insomma per ora sono carte insomma belle vediamo luglio 2022 per il toro l'eremita il il 3 di bastoni capovolto il 9 di coppe toro luglio 2022 segno del toro il diavolo e il 3 di spade qui ci si allontana ci si allontana da qualcuno da qualcosa e il mondo o ancora vedi due di coppe o ancora ci siamo già allontanati forse proprio da sto padre cioè qui c'è una figura che potrebbe essere maschile con cui in passato con cui in passato vedi passato si è interrotto qualche cosa quindi io credo che qui qualcosa sia già successo ma è un qualcosa che vuoi transiti vuoi il momento un po' così come se si stesse vivendo ora all'ennesima potenza questa cosa quindi o ti assale un ricordo ovviamente oltre a tutto quello che ti ho detto eh fanno vedere anche anche questo ma qui fanno vedere tanta rabbia sicuramente tanta rabbia rabbia che però non è molto sana nel senso che qui ti toglie proprio la tranquillità a te c'è un qualcosa che non ti fa stare tranquillo questo toro capito vediamo il diavolo e sono anche ossessioni quindi è un ossessione di un qualche tipo quella dentro di sé è un ossessione non è mai sana veniamo a vedere cos'è quel diavolo cos'è quel diavolo per il toro che poi è un diavolo 3 di spade quindi è una rabbia un qualcosa che ferisce anche se gli amanti vedi amanti imperatrice io vedo succedere qualcosa con questo uomo che qui vada bene me lo descrivono come padre poi può essere anche un'altra figura molto importante per te eh questo tu lo sa se con cui qualcosa potrebbe succedere nel mese di luglio o che ci diciamo le cose come stanno capito o insomma qui qualcosa c'è qui qualcosa c'è con questo signore ma è una ferita antica questa non è un qualcosa di ora secondo me eccetera capito guarda il giudizio è la regina di spade capito quindi magari tu gli dici che tu pensi di lui tutti ci arrabbi qui c'è se vuoi anche proprio un giudicare la persona capisce ti voglio dire eccoci qua vi lascio ai miei vi no un giudicare la persona capisce